Un tavolo istituzionale permanente per spendere bene i fondi europei. Il confronto vede il lavoro maggioranza e opposizione del Consiglio regionale che si mettono in ascolto del territorio attraverso le forze sociali, quelle datoriali, i sindacati e i giovani. L'obiettivo è essere tutti coinvolti rispetto al Next Generation EU, 209 miliardi in arrivo dall'Europa, di cui in parte prestiti su cui si gioca il futuro dei nostri figli. È fondamentale che tutti collaborino nella organizzazione della programmazione di questi fondi. Ovviamente non sappiamo come il governo Draghi riuscirà a coinvolgere le regioni, se ci coinvolgerà, ma noi vogliamo essere pronti. Il tavolo ha già visto la partecipazione dei comuni e delle province a seguire le forze economiche, poi sarà la volta dei giovani del Consiglio. Tre, le cose da tenere bene a mente, ha sottolineato il presidente dei confi industriali, Sergio Fontana. Il Sud deve ricevere ciò che gli spetta. Bisogna riuscire a spendere bene in tempi brevi, entro la rendicontazione del 2026. Tra i banchi di prova la sfida della sostenibilità ambientale con l'ILVA e Cerano. Il bello di questo processo è che alla fine non saranno le idee della Presidente o le idee della Giunta o le idee del singolo consigliere. Saranno le idee che verranno fuori da tutto il confronto e che sicuramente punteranno ad avere il massimo degli obiettivi raggiungibili nelle sei direttrici stabilite dalla Commissione europea, che vanno dalla coesione sociale e territoriale alle riforme per la semplificazione della burocrazia, fino ad arrivare alla digitalizzazione e alla transizione verde cosiddetta. Insomma, una grande opportunità per lottare contro la povertà, per dare alle future generazioni una prospettiva vera di minore precarietà e per essere connessi con le migliori tecnologie e rispettando l'ambiente con tutto il mondo.